Parliamo con Cerasani della sconfitta, si è entrato una sconfitta brutta soprattutto nella parte finale. Per un'oretta si era visto un pergo che ha giocato la pari con la Pinoleffa. Sì, come tutte le partite, poi quando cerchi di rimontarla in qualsiasi modo, gli spazi si allargano, si allungano. Quindi sono stati bravi loro in contropiede, poi sul nostro errore sicuramente sul secondo gol. Poi negli ultimi minuti ci siamo allungati veramente tanto per cercare di recuperarla. Siete d'accordo che nel momento della svolta è stato un rigore sbagliato? Sicuramente se avessimo segnato il rigore magari la partita avrebbe preso un'altra piega. Però con i secondi ma non si va da nessuna parte, quindi guardiamo la prossima e basta, testa alta. Dove bisogna soprattutto psicologicamente migliorare, tenere di più la partita? Più che psicologicamente dobbiamo continuare a fare il nostro, lavorare come stiamo facendo, che stiamo lavorando bene in settimana e poi alla lunga i risultati secondo me arriveranno. È certo che sicuramente qualcosa manca e dobbiamo scoprire cosa più presto. Grazie. Grazie.